Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Filippo Cerno e Marco Moran, rispettivamente tesoriere e senior audit consultant di GECAT, junior enterprise dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ci parleranno di GECAT, un evento che avrà luogo dal 10 al 12 novembre proprio presso la sede centrale dell'Università Cattolica. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, grazie per averci. Grazie a voi per essere qui con noi oggi. Innanzitutto vi chiedo di spiegarci brevemente che cos'è GECAT e in che cosa consiste nello specifico l'evento di GECAT. Sì, GECAT è una giovane realtà di studenti dell'Università Cattolica di Milano che ha una duplice mission. Innanzitutto quella di avvicinare gli associati al mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di un'evento di informazione. dall'altro a quello di erogare servizi di qualità di consulenza manageriale alle piccole e medie imprese, alle start-up e anche alle grandi aziende. GECAT ha un'aspirazione, ovvero quella di essere un vero e proprio ponte tra il mondo dell'università e quello del lavoro e noi cerchiamo appunto di raggiungere questa nostra mission ogni giorno attraverso l'esperienza e attraverso la messa in pratica di quello che poi studiamo nella teoria. GECAT fa parte di un network nazionale di Junior Enterprises che vengono da tutta Italia, ma anche di un network europeo. In Europa si contano 380 Junior Enterprises con più di 33.000 studenti appunto che collaborano in questo progetto. proprio il network europeo ci permette ogni anno di partecipare ad un bando per appunto organizzare questi eventi internazionali in cui tutti i Junior Entrepreneurs provenienti dall'Europa vengono appunto in Italia in questo caso per potersi conoscere e per poter anche dialogare con le aziende. Noi abbiamo avuto la fortuna appunto di vincere questo bando per quanto riguarda la conferenza autunnale appunto delle Junior Enterprises europee e quindi ospiteremo da tutta Europa appunto studenti provenienti da qualsiasi tipo di realtà abbiamo studenti di ingegneria, studenti di economia, studenti di psicologia quindi da quel punto di vista è davvero molto vario quello che è il nostro bacino appunto di competenze e avremo la possibilità in questi tre giorni di poter dialogare con le aziende per quanto riguarda il tema fondamentale che abbiamo voluto dare a questo evento che è empowering the human capital ovvero mettere al centro del dialogo il ruolo fondamentale appunto del capitale umano all'interno delle aziende. Questo è molto in linea con quelli che sono i nostri valori perché il motto in GECAT è learning by doing ovvero mettersi sempre alla prova imparare attraverso la pratica e quindi poter garantire al mondo del lavoro al mercato del lavoro aziende, scusate, studenti di talento studenti di talento con un'esperienza lavorativa già avviata ma soprattutto con un bacino appunto di competenze che altrimenti non si potrebbero insegnare in università. Quali sono quindi le motivazioni principali che hanno spinto a organizzare questo evento? Ok allora intanto come diceva Filippo questo è un evento di carattere internazionale da cui appunto parteciperanno studenti da tutta Europa, da tutta l'università e tutte le facoltà quindi diciamo che la motivazione principale è quella di avere un momento di incontro come appunto sono le conferenze del nostro network per riuscire a condividere e incontrarci con altre realtà come le nostre Junior Enterprise di GECAT in tutta Europa quindi è un momento di incontro con studenti appunto e di condivisione per studenti e Junior Enterprise come la nostra. Inoltre la motivazione principale appunto come diceva Filippo quella di dare un diciamo un fuoco su quello che è il capitale umano e l'importanza del capitale umano nel mondo del lavoro di oggi nelle polversi del mondo del lavoro di oggi. Noi appunto come tematiche abbiamo scelto il capitale umano perché crediamo che sia importante anche per appunto giovani talenti e giovani studenti come noi quello di capire come il talento è la figura dell'uomo è la figura della persona e stia cambiando nel mondo del lavoro come possa essere sempre più importante comunque in parallelo a quello che è l'innovazione tecnologica nel mondo del lavoro. Quindi queste due motivazioni sono quelle che ci hanno spinto a organizzare questa conferenza oltre il fatto appunto di affermare la nostra Junior Enterprise in quello che è il network europeo. E quali sono quindi le aspettative da parte vostra e da parte di GECAT rispetto a un evento del genere? Noi abbiamo davvero delle aspettative elevate nel senso che si tratta di un progetto che è durato più di sette mesi quindi insomma si è trattato davvero di uno sforzo enorme da parte di GECAT per poter garantire davvero la massima qualità appunto dell'evento e questo lo facciamo solamente perché sappiamo quanto sia importante anche conoscere realtà diverse dalla nostra tra prospettive diverse dalla nostra persone che fanno il nostro stesso lavoro però magari in modi totalmente diversi quindi si tratta davvero di un'occasione d'oro per poter imparare dagli altri e soprattutto per conoscere persone che provengono da altri paesi e che magari hanno una visione anche molto interessante di quello che è quello che noi facciamo appunto quindi mettersi in pratica mettersi alla prova attraverso queste realtà appunto lavorative che magari non sono così scontate per uno studente universitario Prima di salutarci vi chiedo se voleste ricordare a chiunque fosse interessato a partecipare all'evento le informazioni principali e i contatti di riferimento Certo, allora l'evento si terrà il prossimo verdi sabato e domenica 10, 11 e 12 a Milano presso l'Insta Cattolica del Sacro Cuore durante la giornata ci saranno attività in cui le nostre aziende partner regolano workshop e business game formativi ed educativi per quelli che sono i partecipanti e diciamo che invitiamo tutti chi voglia passare in Un'Insta Cattolica per fare un salto a quello che sono le nostre attività e quello che sono i workshop e business game che regolano le nostre aziende sono tutti più che invitati può essere un momento formativo per tutti e i contatti vi diamo appunto il mio e quello di Filippo quindi allegheremo le nostre mail magari nella descrizione del video e per qualsiasi cosa non esitate a contattarci Io vi ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e vi auguro un buon lavoro Grazie mille anche a voi Grazie mille